Il professor Ulverico Nisticò nella trasmissione il punto ha attaccato l'amministrazione comunale e il sindaco di Guardavalle Pinussia sull'evento Il Firleto. Sentiamo il primo cittadino. Voglio ringraziare la vostra emittente che ha un ruolo importante sul nostro territorio perché è riuscita attraverso pure queste interviste anche a chiarire alcuni aspetti che tante volte possono diventare anche odiosi. Io sono sindaco di Guardavalle da quattro mesi e mi arrivano questi messaggi da parte del professor in pensione Ulverico Nisticò che continua a lamentarsi della mia assenza, del mio mancato interessamento per quanto riguarda il cardinale Sirleto. Intanzi tutto voglio dire al professor Ulverico Nisticò che a Guardavalle c'è un sindaco, al di là di quello che dice lui, c'è un sindaco eletto il 28 di maggio con 1720 voti, 65-68% della popolazione, quindi c'è un sindaco autorevole e sicuramente con un ruolo importante, al di là di quello che dice il professore. Allora, mi è arrivata l'orecchio che lui anche per riuscire ad avere quell'incarico attraverso la delibera di giunta della vecchia amministrazione a guida del sindaco tedesco, riuscito appunto con la sua metodologia, come sta facendo in questo momento nei miei confronti, e ad avere una delibera di giunta dove il sindaco ha scelto questo comitato scientifico per l'organizzazione dell'evento importante del nostro cardinale Sirleto che sono 500 anni della sua morte nel 2014. Con il sottoscritto la pressione psicologica non esiste, non esiste perché non mi faccio condizionare da nessuno, figuriamoci dal professore Nisticò che è meritevole dell'impegno che ci sta mettendo per questi eventi importanti. Allora, io voglio tranquillizzare il professore Ulderico Nisticò perché io martedì, il primo giorno utile per quanto faremo la giunta comunale, revocherò, revocherò quella giunta, quell'impegno preso, quella delibera presa dalla vecchia amministrazione, quindi lo libero da questo impegno che potrebbe anche essere un discorso psicologico importante, pericoloso per la sua salute, quindi nessun impegno, nessun vincolo verso la comunità di Guardavalle perché per quanto riguarda la comunità di Guardavalle ho a disposizione diversi personaggi storici che mi possono dare un aiuto per l'evento che andremo a fare. Abbiamo tutto il 2014, il professore Nisticò, quindi ho tempo e modi per poter organizzare questo evento. Lo farò attraverso appunto i miei concittadini che ho, grazie a Dio, importanti e anche di qualità. La paura del professor Ulderico Nisticò è che i fondi che vengono per questo evento possano essere messi a sacre, a stende e quant'altro. Risponderò anche a questo, se arriveranno questi fondi il professore Nisticò non si deve preoccupare, saranno tutti mirati per questo evento perché quando la comunità di Guardavalle commemora un cardinale che per ben due volte poteva diventare papa e poi la politica non è riuscita a fare questo e poi anche purtroppo la sua morte, non si deve preoccupare, le sacre li faremo con i contributi dei cittadini. Se arriveranno i fondi per la cultura, perché Guardavalle è anche un paese di cultura, faremo questo evento del cardinale. Ma io voglio anche essere ancora più preciso con il professore Nisticò. Io con Don Angelo Comito siamo stati a Roma per cercare di portare i resti del cardinale Sirletto a Guardavalle, resti che adesso sono nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna a Roma e abbiamo già predisposto anche questo, quindi non si deve preoccupare, non ci stiamo impegnando, ma lo facciamo in sordina perché caro professore Nisticò, prima di questo evento e prima di andare ad impegnare soldi che il comune di Guardavalle non ne ha, io ho dovuto pensare alla spazzatura che quando mi sono insediato era veramente orrenda. Mi devo impegnare e soprattutto dare risposta per il dissesto comunale che il comune di Guardavalle ha, mi devo impegnare perché la mattina in comune ho 20, 30, 40 mamme di bambini e bambine che non hanno neanche i soldi per andare a comprare il bono mensa per far mangiare i propri bambini a scuola e soprattutto, caro professore, visto che mi ha fatto tutta questa pubblicità in questi 4 mesi, io ho delle priorità e sono quella del dissesto e noi ci stiamo impegnando per risolvere questo problema, per quanto riguarda il degrado economico e sociale che è veramente rilevante a Guardavalle, devo garantire i servizi essenziali ai miei cittadini, devo garantire la menza scolastica, devo garantire il discorso delle tasse che ce l'ho tutte doppie e alla fine arriverà anche la giornata commemorativa e le assicuro che la faremo, non dico in modo sobrio, una giornata perché quando Guardavalle ha avuto questa figura importante, merita anche questo, però, caro professore, prima vengono le emergenze e sicuramente quella di avere subito lei che inizia a predisporre questa giornata commemorativa che comunico, abbiamo tutto il 2014, tempo utile per poterla fare, ne abbiamo del tempo, adesso ho altre problematiche da fare, spero che il mio intervento sia stato chiarificatore, altrimenti mi impegnerò anche a farle una lettera per iscritto dove le comunicherò quello che io ho detto questa sera. Grazie a te Leonio per questa opportunità che mi ha dato.